Direzione Futuro è un progetto all'avanguardia, è un progetto ambizioso, è un progetto che guarda al futuro, che guarda allo sviluppo di due aziende che sono in crescita e che vogliono continuare a crescere, due aziende che insieme hanno disegnato una nuova strada. Mondoffice e Raja avevano entrambi necessità di espandersi e quindi decidono di costruire insieme un nuovo polo logistico all'avanguardia per supportare la crescita comune. Quindi siamo andati a ricostruire e bonificare una zona industriale già presente qui nel territorio di Castelletto Cervo ed abbiamo costruito altri nuovi 25.000 metri quadri che daranno la possibilità a entrambe le aziende di espandersi ancora maggiormente nella loro evoluzione di business. Noi sentiamo molto forte il legame con questo territorio sia a livello occupazionale, di sviluppo economico sia anche in termini di responsabilità sociale ed impresa perché il nostro impegno è proprio quello di poter dare un impatto positivo sulla collettività, sulla società e sul territorio e crediamo che questo progetto ne sia proprio un esempio. Direzione Futuro è un grandissimo progetto di accentramento delle attività logistiche di Raja Italia che è leader nella distribuzione di imballaggi e forniture, attrezzature in ambito industriale e logistico alle aziende e Mondoffice che invece è leader in tutto quello che è la distribuzione di materiale per ufficio e arredo. Sono ovviamente due società che appartengono al gruppo Raja, il gruppo Raja è un gruppo multinazionale che ha sede a Parigi, presente in 19 paesi con 26 società, 4.500 dipendenti, quasi 2 miliardi di fatturato, che ha deciso di investire come progetto pilota in questa logistica che unisce le attività delle due aziende creando una logistica proprio pensata per accogliere tutte le tipologie di merci, qualsiasi categoria di prodotto secondo il loro peso, la loro dimensione, la loro retazione, andando così a permettere alle due aziende di efficientare anche attraverso l'implementazione di un magazzino automatico goods to person di ultima generazione che gestirà oltre 12.000 codici completamente automatizzato e quindi insomma è davvero un investimento che guarda al futuro, che guarda all'innovazione, che guarda alla sostenibilità, lo abbiamo sentito, un magazzino che si certificherà l'Eats Gold, quindi è stato davvero concepito con tutti i criteri ecocompatibili, un impianto fotovoltaico, pompe di calore, un centro di distribuzione che è climatizzato e raffrescato, questo anche per farvi capire l'attenzione che c'è rispetto ai collaboratori del nostro gruppo. I nostri clienti, Rajah e Mond Office, oltre 200.000 su tutto il territorio nazionale, con una disponibilità quindi aumentata dei prodotti a stock, che toccherà oltre il 99%, 60.000 posti pallet, 50.000 articoli con l'obiettivo a breve di raggiungere insieme, Rajah e Mond Office, i 200 milioni di fatturato, questo è il nostro obiettivo insomma dei prossimi anni.